I black bloc misero a ferro e fuoco la piazza di Atene prima del sorgere, dello scoppiare della crisi del debito e quindi di quello che è successo di drammatico in Grecia. Quella esercitazione lì fu un'esercitazione in cui parteciparono gruppi di provenienza diversa dalla Francia, dalla Germania e dall'Italia. Non credo proprio che l'unica cosa che possa capitare sia di tipo individuale. Le condizioni per presenze organizzate di sfruttamento della protesta che c'è, quella diciamo è legittima, sotto forma violenta non solo è possibile ma è talmente possibile che a Roma c'è già stata.